Tutti i sindaci della provincia di Sassari contro la bozza dell'atto aziendale presentata a fine dicembre dall'Ase numero 1. Ieri l'incontro nella sede della provincia di Sassari con tutti i sindaci, tra questi quello di Alghero Stefano Lubrano, che cosa siete riusciti ad ottenere? In primo luogo era evidente la contrarietà di tutti i sindaci, quindi di tutto il territorio, al contenuto dell'atto aziendale che sostanzialmente disattende, parlando delle questioni di Alghero, tutti i processi di condivisione, tutto il contenuto che è stato condiviso sulla sanità algerese con i numerosi incontri fatti con i primari, ma soprattutto con la direzione generale. E poi anche sul metodo riteniamo che non sia opportuno costringere i sindaci ad un'approvazione di un atto aziendale senza che questo venga discusso, senza che si entri nel merito delle criticità, senza che possa essere data al territorio l'opportunità di esprimere il proprio parere ma soprattutto ribadire quelli che sono gli interventi da fare. Quello che abbiamo ottenuto è intanto un rinvio dei tempi del lato, occorre ricordare anche che la regione mette fretta in momenti anche abbastanza discutibili, con dei tempi discutibili. Come Alghero abbiamo ottenuto di poterci confrontare singolarmente come città per discutere e ridiscutere quelle che sono le nostre priorità e quelle che sono le criticità su cui occorre intervenire. Su che cosa l'amministrazione non mollerà? Sappiamo che ci sono diversi punti contesi, l'accorpamento di alcuni servizi del marino al civile, il declassamento a strutture semplici di oncologia e di dialisi e poi servizi sociosanitari. Sostanzialmente contestiamo l'impianto. Noi tra l'altro abbiamo avuto modo di leggere il contenuto dell'atto aziendale solo nella parte finale dell'anno. Nonostante questo ci siamo attivati non solo per entrare noi nel merito delle questioni, ma anche per chiedere un incontro con la direzione generale che non ha mai risposto. Chiaramente non ci siamo fermati a questo, abbiamo attivato un confronto con i primari o meglio con i rappresentanti dei primari per condividere quelle che erano le nostre osservazioni con le loro e diciamo che combaciano in maniera quasi totale. Ciò che viene contestato sono appunto intanto l'idea che si possa accorpare l'ospedale marino, l'ospedale civile senza il nuovo ospedale. Noi facciamo e continuiamo la battaglia per avere i fondi per il nuovo ospedale ad Alghero. Solo dopo si può ragionare per degli accorpamenti che dovranno chiaramente prevedere anche una riorganizzazione del sistema sanitario, amministrativo, sanitario in città. Certamente non possiamo accogliere con favore, rifiutiamo quindi categoricamente l'idea di declassare appunto dialisi, di declassare oncologia, di declassare diabetologia, perché assolutamente è contrario a ciò che noi abbiamo condiviso. Abbiamo anche rilevato delle incongruenze. L'ASL all'interno del PLUS stimola i territori, stimola i distretti a deospedalizzare e a fornire servizi al cittadino. Nell'atto aziendale invece pensano di costituire un reparto ospedaliero di psichiatria. Noi abbiamo chiesto che per quel che riguarda il centro di salute mentale si porti il servizio H24. Riteniamo che questa sia la strada, riteniamo che sia questo il percorso da seguire e non certamente quello di creare un nuovo reparto di psichiatria, tra l'altro, in città. Per cui c'è difformità non solo tra quelle che sono le nostre istanze, ma addirittura tra quello che l'ASL dice in un contesto, cioè quello del PLUS, e quello che dice e scrive meglio nel lato aziendale. Quindi approvazione rinviata, quando ci sarà un tavolo di confronto con la direzione generale dell'ASL? Noi stiamo prendendo accordi, dovremmo fare un primo incontro con la direzione dell'ASL e l'assessore provinciale che segue l'ambiente e la salute lunedì prossimo. Vorremmo dedicare tutta una giornata a questo incontro, prima facendo noi degli incontri con i rappresentanti dei primari, e poi confrontandoci fino a quando tutti gli aspetti non siano stati sviscerati, quindi chiediamo e abbiamo chiesto e ottenuto dalla direzione generale un'attenzione ampia e completa, non semplicemente un paio d'ore, ma una giornata intera per discutere e approfondire questi temi.